Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del Covid-19 si è tenuto presso l'aula consigliare di Capaccio Capoluogo giovedì 4 febbraio la riunione del Consiglio Comunale, uno solo il punto all'ordine del giorno, la surroga della dimissionaria consigliera Stefania Nobili con Antonio Agresti. Nel rinnovare l'apprezzamento per il gesto dell'Avvocato Stefania Nobili e nel ringraziarla per il lavoro svolto, dichiara il sindaco Franco Alfieri, do il benvenuto in Consiglio Comunale al consigliere Antonio Agresti. Sono certo che saprà dare alla nostra già ben compatta e rodata squadra amministrativa un contributo importante in termini di impegno, affidabilità e professionalità. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte mia e della città di Capaccio Pestum. Il neoconsigliere Antonio Agresti è eletto nella lista Democrazia Capaccese a 42 anni e svolge la professione di commercialista e revisore contabile. Sono contento di entrare a far parte di una squadra e di un gruppo con il quale ho condiviso sin da subito idee e progetti, dichiara Agresti. Sono onorato di poter dare il mio contributo all'operato che questa amministrazione, retta dal sindaco Alfieri, sta portando avanti egregiamente nell'interesse dell'intera comunità di Capaccio Pestum.